Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere l'equazione generale della retta. Quindi, nelle lezioni precedenti abbiamo visto come disegnare delle rette che fossero parallele o all'asse delle ascisse o all'asse delle ordinate e poi abbiamo visto come rappresentare delle rette passanti per l'origine. Ora cercheremo di mettere insieme tutti questi risultati per ottenere un'equazione più generale che è l'equazione generale della retta. Quindi, quale sarà l'obiettivo di questa lezione? Disegnare una retta qualsiasi data alla sua equazione, calcolare il terminoto, e vedremo cosa significa questa parola, il terminoto di una retta, e determinare l'equazione di una retta qualsiasi. Cioè, se io vedo una retta rappresentata, devo essere anche in grado di ricostruire qual è la sua equazione. Tuttavia, prima di passare direttamente all'equazione di una retta qualsiasi, è bene capire anche l'origine di questo tipo di formule, anche capire un po' l'applicazione, da un punto di vista pratico, di quello che stiamo imparando ora ad algebra. E quindi io vi presento un piccolo problema di fisica. Quindi abbiamo una sciatrice che scende giù per una collina. Partendo da ferma, questo è un dato molto importante, questa accelera costantemente di 2 metri al secondo quadrato. Questa è l'unità di misura chiusa per l'accelerazione, perché significa che la mia velocità aumenta di 2 metri al secondo ogni secondo. Il primo passaggio per capire come cambia la velocità di questa persona è fare una tabellina, come questa qui che vedete, in cui ho scritto il tempo in secondi e ho scandito per i primi 5 secondi, quindi tempo 0, 1, 2 e così via, fino a 5, qual è la velocità di questa sciatrice. Ora, al tempo 0 che mette la velocità è 0, perché è scritto qui, no? La parte da ferma, ok? Cosa succede nei secondi successivi? Nei secondi successivi devo vedere qual è l'accelerazione. L'accelerazione mi dice di quanto incrementa la velocità ogni secondo. Quindi è chiaro che dopo un secondo la mia velocità sarà aumentata da 0 a 2. Dopo due secondi la mia velocità sarà aumentata di altri 2 metri al secondo, quindi sarà passata da 2 a 4. Dopo tre secondi la mia velocità sarà a 6 e così via, fino a 10. Questo è un modo per rappresentare questo tipo di problema, ma come voi sapete, un modo più immediato per rappresentare una serie di numeri collegati tra di loro è fare un grafico, in particolare appunto un grafico cartesiano, che è proprio quello che ho fatto qui sotto. Come vedete ho disegnato i due assi cartesiani, in questo caso mi sono limitato solo ai valori positivi, e sull'asse orizzontale ho rappresentato il tempo, quindi un secondo, due secondi e così via, e sull'asse verticale, cioè il nostro asse delle scisse, ho rappresentato la velocità. Questo è quello che si chiama un grafico velocità-tempo. E andando a vedere i valori riportati nella mia tabella, no, ho messo al tempo 0, velocità 0, che poi corrisponde alla mia origine, dopo un secondo, la mia sciatrice ha raggiunto la velocità di 2 metri al secondo, eccola qua, dopo due secondi siamo arrivati a 4 metri al secondo, 3, 4, non ho continuato, ma insomma si vede chiaramente l'andamento di questi numeri, e come vedete si dispongono esattamente lungo una retta, e non una retta qualsiasi, ma una retta che passa per l'origine. Perché questo? Perché, penso molti di voi l'abbiano già capito, in questo tipo di problema, la velocità della sciatrice e il tempo sono grandezze direttamente proporzionali. E abbiamo già visto nella lezione scorsa che questo tipo di grandezze possono essere rappresentate proprio da una retta del tipo y uguale m per x, una retta appunto passante per l'origine, dove m è il mio coefficiente angolare, il gradient, lo slope, la pendenza della curva. Ora però, sostituiamo questa formula generica che è y uguale a mx con le variabili che stiamo utilizzando in questo problema, in particolare l'ordinata, quindi la y, un'altra che la velocità, che indicherò col simbolo v, la scissa, cioè la x, in questo caso il tempo, che indicherò con la lettera t, e qual è la pendenza, qual è il coefficiente angolare? Chiaramente è 2, perché è la costante di proporzionalità. Quindi, quello che posso ottenere da questo problema è che la velocità e il tempo sono legate da una relazione v uguale 2 per t. A questo punto mi domando, ok, ma questo 2 è dove l'avevo già incontrato nel mio problema. Quindi, se torno su, vedo che 2 non è altro che l'accelerazione. Quindi, mettendo insieme, insomma, un po' di pezzi, viene fuori che, in questo tipo di problema, il coefficiente angolare, la m, non è altro che l'accelerazione. C'è una formula generale che mi dice che, quando ho un'accelerazione costante, la velocità è uguale a accelerazione per tempo. Ora vi chiederete, non abbiamo scoperto niente di nuovo, abbiamo di nuovo visto una retta che passava per l'origine, ma ora vediamo di espandere il problema di prima. Consideriamo un'altra sciatrice, ok? Questa sciatrice, questa volta, parte con, già, sta già muovendo, ha già una certa velocità, una velocità di 5 metri al secondo. E comincia anche lei, però, la stessa discesa di prima, quindi anch'essa, accelera costantemente di 2 metri al secondo quadrato, che significa 2 metri al secondo al secondo. E come prima, faccio un nuovo la tabellina, quindi, scrivo il tempo, tempo 0, 1, 2, fino a 5, e vado a vedermi qual è la velocità corrispondente. E come potete già vedere da questi numeri, abbiamo una situazione un pochino diversa. Perché? Perché qui non stiamo partendo da fermo, partiamo da una velocità iniziale che è già 5 metri al secondo. Quindi, al tempo 0, la sciatrice ha questa velocità. Nei secondi successivi, applico lo stesso ragionamento del problema di prima. Io so che l'accelerazione è il mio incremento nella velocità, cioè, di quanto aumenta la velocità ogni secondo. Quindi, dopo un secondo, la mia velocità sarà aumentata di 2, quindi diventerà 7, poi diventerà 9, poi 11, poi 13, poi 15. di nuovo, andiamo a rappresentare questi numeri su un grafico cartesiano, di nuovo un grafico in cui ho il tempo come coordinata orizzontale e la velocità come coordinata verticale, quindi x e y, e come vedete, qui ho una retta che è molto simile a quella che avevamo visto nel caso precedente. Non fate caso alla pendenza perché qui ho dovuto usare una scala diversa, ok, rispetto all'esercizio di prima. E come vedete, qui, questa volta, la mia retta non parte dall'origine perché io ho già una velocità iniziale, una velocità iniziale che è 5, quindi, al tempo uguale a 0 ho una velocità uguale a 5, poi dopo un secondo ho una velocità che è uguale a 7, questo è 7, no? Vedete, 5, 6, 7, dopo due secondi sono a 9, e questo appunto è 9, dopo 3 secondi sono a 11, dopo 4 secondi sono a 13 e dopo 5 secondi sono a 15 metri al secondo. Ecco, vediamo allora di capire come possiamo trasformare questo risultato in una formula e ritorniamo a quello che avevamo ottenuto nell'esercizio precedente, no? L'esercizio precedente cosa avevamo ottenuto? avevamo ottenuto che la velocità era uguale a 2 per il tempo che corrisponde a una retta del tipo y uguale a m per x, no? Questa sarebbe se io chiudessi qui, eh? Questa sarebbe una retta che passa per l'origine ma non è questo il caso. Perché? Perché quello che vedo è che questa velocità deve questo mi rappresenta l'aumento di velocità rispetto alla velocità che già avevo, ok? Quindi ho un punto di partenza che è questo 5 eh? Questo valore qui e quindi questo lo devo aggiungere infatti se voi fate anche un piccolo calcolo che so guardate cosa succede se il tempo è uguale a 3 secondi no? Io faccio t cioè 3 per 2 che fa 6 6 più 5 fa 11 che è proprio il numero che ho fatto qui quindi si vede che questa formula è giusta. ecco che cosa ci dice questa cosa? Ci dice che quando ho una retta che non passa per l'origine ma per una retta qualsiasi essa non avrà più la forma y uguale a mx ma avrà una formula del tipo y uguale a mx più un altro termine che nei libri di matematica italiana è normalmente indicato con la lettera q voi probabilmente siete abituati a vedere b o c comunque un'altra lettera ok? Allora questo è per capire come si arriva alla formula generale della retta noi questa lezione la spezzeremo in due parti quindi con questo concludiamo la prima parte nella seconda parte vedremo come utilizzare l'equazione generale della retta e per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini a e per oggi a a a a a Grazie.